Non siamo un fattito, non siamo una classa, siamo cittadini di tutto e basta, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno, vale uno, vale uno. Sì, grazie Presidentessa. Sì, appunto la mia interrogazione era per avere degli aggiornamenti sul progetto che sia l'assessore Marrazzo che l'assessore dell'Aquila avevano in diverse occasioni illustrato. Da un mio accesso agli atti sappiamo che il Comune ha la proprietà di 11 mila ettari di terreni agricoli e questi terreni agricoli ovviamente rientreranno nel nuovo parco che è stato istituito, altri probabilmente no perché sono appezzamenti più piccoli, però nell'interrogazione per sapere quali sono gli sviluppi di questo progetto c'è anche la necessità di capire se visti questi 11 mila ettari che non sono pochi, 11 mila metri quadri di terreni agricoli a disposizione del Comune, il progetto City Farmers e orti comunali va un po' al di là di quelli che sono anche i comunque molto utili per la cittadinanza, progetti di orti, piccoli orti che sono in varie zone come in Via Adda, in Via Sicilia, i tanti orti comunali che ci sono, però diciamo che rispetto a questa mole di terreno si potrebbe fare dei progetti molto più interessanti. Sappiamo che il Comune ha anche partecipato a un bando, un bando della fondazione Cariplo che metteva a disposizione dei fondi, quindi sapere se rispetto a questa iniziativa se c'è stato qualche sviluppo, però diciamo che il progetto non era vincolato all'accesso meno al bando perché ci sono stati postati in bilancio 100 mila euro che comunque sono una cifra abbastanza cospicua e quindi di iniziative se ne possono fare tante. All'interrogazione nasce anche l'esigenza di capire come il Comune intende far fruttare questa risorsa, perché è una risorsa, cioè ricordiamoci comunque sempre che in un momento di crisi come quello che stiamo affrontando, quando qualsiasi cosa possa essere messa diciamo tra virgolette al bilancio per creare occupazione, per creare comunque una risorsa, ma anche per creare degli spazi sociali che diano poi oltre alla possibilità di aggregazione anche la possibilità poi di avere comunque anche diciamo dei frutti proprio. È un qualcosa che va tenuto bene in considerazione, questa aggiunta secondo me lo sta facendo, però ecco proprio capire meglio a che punto siamo arrivati anche con qualche spunto. Io avevo fatto una provocazione, diciamo che poi dopo il gruppo consigliare del PD mi ha un po' deriso per quello che riguarda il discorso delle canne di bambù, però nei terreni agricoli, ovviamente alcuni terreni agricoli non saranno idonei, perché purtroppo viviamo in una zona dove sappiamo l'inquinamento è forse tra i peggiori in Europa, quindi probabilmente coltivare alimenti forse non è la cosa migliore. Però ci sono coltivazioni di piante che possono essere, che poi sono piante pregiate che possono essere rivendute. Ovviamente non si parla di cifre che risolverebbero i problemi di bilancio del comune, però per alcuni terreni che probabilmente sono lì a far poco, mettere delle piante che oltre a avere un impatto ambientale, un impatto visivo sicuramente rispetto a un terreno magari incolto, a un terreno con delle piante boschive, avere un impatto visivo e poi anche un piccolo impatto economico, perché poi alla lunga questi alberi di alto fusto, questi alberi di legname pregiato si possono anche rivendere. In un momento in cui si guardano le migliaia di Euro nel bilancio, si fa fatica a trovare 10.000 Euro per magari mettere a disposizione per degli spazi sociali, diciamo che insomma secondo me sono anche queste cose che la Giunta dovrebbe tenere in considerazione nonostante le tante altre priorità che ci sono. Grazie. Grazie. Assessore dell'Aquila, prego. Sì consigliere, l'aggiorno in merito al progetto di cui la sua interpellanza, quindi riprendendo in parte la premessa che lei ha fatto, questo progetto che era iniziato con l'adesione infatti al bando, che poi non ha avuto un esito positivo, ma ciò nonostante l'amministrazione ha voluto confermare il proprio impegno nella direzione, essendo una direzione che da un punto di vista di scelte, di strategie, di politiche partecipative e anche ambientali, è un progetto in cui crediamo. Quindi abbiamo destinato la spesa, come diceva anche lei, di 100.000 Euro, individuando un'area che è classificata come area destinazione agricola e situata nel quartiere di Sant'Alvino tra le viade e le viarossi. A ottobre l'amministrazione ha promosso un bando, bando di indizione di istruttura pubblica che ha finalizzato l'individuazione di soggetti del terzo settore edonei alla coprogettazione di un orto giardino comunitario di partecipazione sul fronte della via Adda-Monza e tale bando prevedeva una procedura distinta in tre fasi. La prima fase è la selezione del soggetto, la seconda fase è la coprogettazione e la terza fase è il convenzionamento. Per la prima fase, selezione del progetto, la Commissione Tecnica di Valutazione ha selezionato quale soggetto con cui procedere alla fase di coprogettazione, la società cooperativa responsabilità limitata, CSL, Consorzio Sociale. Invece per quanto riguarda la seconda fase, la coprogettazione, il percorso tra i referenti del soggetto selezionato e i referenti del servizio di riqualificazione urbana del Comune di Monza ha portato all'elaborazione e condivisione del progetto City Farmers, un orto giardino di partecipazione a Monza il quale comprende la definizione degli obiettivi da conseguire, la definizione degli elementi e delle caratteristiche innovative di questo progetto e anche il costo delle diverse prestazioni. Abbiamo steso una bossa di convenzione appunto da stipulare tra il Comune di Monza e la società cooperativa CSL, Consorzio Sociale. Quindi sicuramente il percorso è a un buon punto, lo continueremo vedendo anche come ampliare la nostra capacità riprendendo magari la volontà di partecipare anche a forme di finanziamento che possono derivare da eventuali altri bandi. Comunque il percorso, come le ho detto nella definizione della progettualità che è partita di fatto al mese di ottobre e sta andando avanti adesso, è a un buon punto, lo presenteremo molto presto quindi sicuramente ci saranno degli aggiornamenti anche in termini proprio di partecipazione attiva da chi poi vorrà prendere parte attivamente a questo percorso. Grazie. Assessore Dell'Aquila, consigliere Novi. Sì, ringrazio l'assessore per la risposta molto puntuale. Ecco, diciamo due cose mi premeva capire se ha dei tempi molto rapidi se si può avere qualcosa di un po' più concreto di tempi molto rapidi nel senso una data o se comunque è forse un po' difficile poterlo fare bisogna un po' un periodo che sia un pochettino più concreto rispetto a tempi molto rapidi e se comunque il progetto Orti Comunali e City Farmers al momento si limita appunto a quest'area qua che è l'area di Via Adda e è fermo lì, diciamo, solamente in quell'area di Voloca Pio e se ci sono sviluppi anche per altre aree anche proprio in considerazione di quello che dicevo prima di 11.000 ettari di terreni agricoli del comune che sono a disposizione. Il progetto per adesso è limitato, tra virgolette, a Via Adda però, ecco, quanto le dicevo prima è chiaro che è la premessa anche di una risposta a questa sua domanda cioè che vogliamo iniziare da là Sì, brevemente vorrei aggiungere alcune brevissime cose perché non mi pare di dover fare una riflessione su quello che lei poi ha posto nella presentazione perché il tema di aree che sono agricole che potrebbero essere oggetto di una riforestazione è un tema di attualità da dove è avvenuto per esempio la trasformazione di aree agricole con una riforestazione perurbana oggi presenta dei problemi alle amministrazioni che hanno intrapreso questa strada perché poi il mantenimento di una riforestazione significa che bisogna fare degli investimenti a punto di vista economico e, ripeto, è un tema che sta preoccupando amministrazioni che qualche anno fa hanno avviato questa iniziativa sugli orti urbani, guardi, giusto perché si sappia, noi abbiamo in città 100 appezzamenti in tre punti dietro Cascina Villora, in Viale Sicilia, sono quelli più recenti in via Vecellio, di fianco al canale Villoresi più qualche episodio in via De Bussi che però, insomma, sono significativi sono orti che non hanno lo stesso obiettivo di quello che invece abbiamo previsto nell'ultimo progetto nell'ultimo progetto City Farmers si vuole anche coinvolgere i cittadini nella fase della progettazione e dell'accompagnamento negli anni successivi cioè i cittadini partecipano ad un progetto che non è soltanto curare il proprio appezzamento come avviene per i cento che ricordavo prima ma ad una partecipazione che ogni anno si rigenera attraverso una compartecipazione di più soggetti anche quelle fragilità che oggi sono presenti in città che hanno bisogno di quella socialità per superare appunto aspetti che oggi parrebbero essere magari marginali ma che sono importantissimi però siccome questo progetto che è più ambizioso non ci fa venire meno l'idea di approntare altri appezzamenti in città per esempio la via Donatori Sangue che è nel quartiere Sant'Alessandro a ridosso della ferrovia una zona che oggi presenta un disordine che va superato ecco lì c'è un progetto, noi speriamo di avere le risorse sufficienti per poter intanto condividere con gli attuali assegnatari di quei piccoli appezzamenti una ridefinizione complessiva per dare più ordine creare uno spazio per la socialità all'interno di questi appezzamenti per cui si vuole proseguire su due strade, col progetto City Farmers più aggregativo più partecipativo e quello invece che vogliamo destinare a colori quali semplicemente vogliono costruire, vogliono coltivare un piccolo appezzamento nella quotidianità, nella stagione appunto in cui questo è possibile così come sta avvenendo nelle altre situazioni. La domanda oggi è un pochino rassegnata per cui non ce ne sono moltissime ma perché non ci sono disponibilità appena aumenta l'offerta è chiaro che anche la domanda aumenta noi vogliamo dare una risposta a questa domanda che rischia di essere in evasa ma che giustamente invece va considerata per quello che è.